Ciao sono Luca di MisterCadget, oggi vi presento un altro prodotto molto interessante che arriva da un marchio Asus caratterizzato negli ultimi anni da un numero incredibile di prodotti legati a determinate famiglie in particolare l'ultima Zenfone 3 aveva davvero tantissime declinazioni non è diversa la sorte anche per Zenfone 4 noi incontriamo quello che è il modello tra virgolette standard che arriva in Italia proprio in questi giorni al prezzo di 499 euro e allora Zenfone 4 diamo dunque un occhio al nuovo Asus Zenfone 4 che è solo uno dei tanti modelli della famiglia come detto c'è il selfie, il selfie pro, c'è il modello premium insomma sono tantissime le versioni che verranno proposte vedete la parte posteriore in vetro se volete il design richiama quello forse di Honor 9 che può essere considerato un prodotto concorrente per svariate ragioni pulsante di accensione, volume rocker sulla parte laterale l'altro lato invece con il cassettino per le due SIM oppure per la SIM abbinata alla micro SD la parte superiore vedete con praticamente nulla da segnalare parte inferiore con l'attacco USB Type-C, il connettore per le cuffie e la griglia di uno dei due autoparlanti poi sull'audio torniamo a parlare successivamente il display è un 5,5 pollici full HD, è un IPS devo dire che l'angolo di visione è discretamente valido un pelo meno invece la luminosità perché vedete questa è essenzialmente la luminosità massima del telefono che non è proprio elevatissima se volete anche la tonalità dei colori non è molto accesa dall'altra parte siamo stati abituati a vedere moltissimi AMOLED in questo periodo però c'è una cosa molto carina vedete la modalità colore dello schermo se voi attivate questa regolazione automatica è un po' come se fosse un true tone display allora a quel punto la colorazione del display viene adattata a quelle che erano solo le condizioni esterne e tutto sommato è un po' la condizione migliora però ecco volendo forse il display per un prodotto che si posiziona a 499 euro è probabilmente uno degli elementi più tra virgolette normali per quanto riguarda le dimensioni prendo un altro 5,5 pollici famoso iPhone va beh insomma l'ho messo a rovescio per intendere un po' qual è la combinazione delle misure tutto sommato un pelo più stretto lo vediamo così un pelo più stretto e anche leggermente più basso però onestamente la differenza è proprio minimale per quanto riguarda le misure per coloro che sono proprio appassionati anche di questi dettagli supertecnici 155,4,75,2 è uno spessore di 7,7 mm molto contenuto il telefono è protetto fronte e retro dal Gorilla Glass il 3 per l'esattezza mentre all'interno c'è un processore Snapdragon 630 allora volevo mostrarvi una cosa adesso chiudendo in pratica tutti gli elementi ecco chiudiamo tutto nella navigazione così vediamo un po' anche come si comportano questa versione ha 4 GB di RAM 64 GB di memoria interna sono riuscito a dirlo corretto 4 GB di RAM 64 GB di memoria interna espansione con la microSD e come detto il processore Snapdragon 630 vuol dire un octa core con 4 core da 2,2 GHz e 4 core invece da 1,8 GHz la differenza tra questa versione e quella che arriverà con Snapdragon 660 è che lo Snapdragon 630 ha ancora diciamo la vecchia struttura Cortex A53 non ha la nuova struttura Cairo interfaccia allora migliorata drasticamente rispetto al passato parliamo della Zen UI che secondo me in passato era super caricherrima di un sacco di bloatware un sacco di software che non servivano assolutamente a niente adesso essenzialmente avete un'interfaccia più pulito diciamo anche più elegante secondo me che riflette bene soprattutto se voi utilizzate questo tema di default vedete si combina bene anche con la personalizzazione ad esempio dei quick toggles il menu viene realizzato invece avvicinandosi molto al menu stock a cui vengono cambiate solo ed esclusivamente diciamo le icone legate alle voci ecco poi magari queste le andiamo a vedere un po' per volta abbiamo detto che c'è l'espansione micro SD importante sottolineare anche che ci sono i due speaker io adesso non so se è il caso che io vi faccia vedere essenzialmente la velocità di navigazione siamo collegati ad una rete wifi tutto sommato sto agganciandomi al Corriere della Sera quindi comunque in questa versione mobile è molto facile da gestire vedete tutto molto 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 nella norma vorrei farvi sentire anche l'audio perché questa è una cosa importante l'audio è un aspetto molto curato di questo telefono che tra l'altro ha anche l'uscita con high resolution audio non solo anche l'opzione DTS quindi allora sentite l'audio è molto alto come volume non molto definito non è molto definito per quanto riguarda la dotazione di bassi però ha un volume veramente molto alto per cui in particolare per una soluzione come quella di una telefonata in viva voce davvero si tratta di un prodotto interessante allora abbiamo visto dunque l'interfaccia abbiamo visto che è stato un po' ripulito rispetto al passato rimane ancora secondo me un po' carico di pasticci rispetto a quello che si poteva fare magari ripulendo ulteriormente da alcune applicazioni che probabilmente rappresentano un business anche per Asus che però ogni tanto un po' secondo me deteriorano un po' l'immagine generale del prodotto però diciamo che questo è un oggetto che vive della promozione We Love Photo vedete che ve lo mostro però con qualcosa di inquadrato avete la possibilità di avere un'inquadratura normale che è questa che state vedendo in questo momento oppure la camera grandangolare invece che forse lo vedete soprattutto in questo modo promette un'inquadratura a 120 gradi di ampiezza guardate come cambia lo spazio intorno al piripacchino che stiamo essenzialmente fotografando allora quando voi utilizzate la fotocamera principale cioè quella da 12 megapixel tra l'altro è un sensore di Sony quindi il comportamento è buono anche con poca luce con una buona messa a fuoco adesso probabilmente non sarà facilissimo vederlo però guardate il dettaglio della venatura del legno che si vede nella parte inferiore della fotocamera tutt'altra storia invece quando si usa la camera grandangolare ecco in questo caso devo dire che quando c'è poca luce il risultato non è esagerato Asus sostiene che il sensore della fotocamera catturi 5 volte più la luce rispetto ad un prodotto competitor agli altri prodotti sul mercato della stessa fascia diciamo che questo vale per la fotocamera principale diciamo che per la fotocamera secondaria grandangolare invece non siamo allo stesso livello vedete qui avete la possibilità anche di gestire molte delle funzionalità del telefono scusate torno alla fotocamera un attimo vedete ad esempio la dimensione di ripresa oppure vedete la modalità portrait e qui invece avete tutte le possibilità di andare a scattare le vostre foto vi faccio notare che io tra l'altro in questo momento ho scelto la risoluzione 16 noni cioè quella da 9 megapixel anziché la risoluzione da 12 megapixel tra l'altro potete scegliere di attivare il watermark avete la possibilità di messa a fuoco continua oppure di messa a fuoco intelligente bisogna dire che i livelli vedete l'anti sfarfallio per quando girate i video potete scegliere di usare il tasto volume come zoom oppure come pulsante per scattare potete toccare due volte il tasto del volume per avviare la fotocamera da qualunque schermata vedete quindi che le possibilità di personalizzazione sono veramente tantissime avete poi la modalità pro con cui invece potete vedete controllare tutte le funzioni della fotocamera esattamente come se foste capaci di usarla scherzo ovviamente nel mio caso la risposta sarebbe assolutamente no bisogna dire tra l'altro che Asus utilizza il sensore Spectra 160 di Qualcomm per le riprese e questo sicuramente conferisce un sacco di opzioni molto interessanti vedete insomma dalla versione Pro versione molto interessante che potete utilizzare vedete anche potete regolare la luminosità dello scatto e questo succede essenzialmente con la fotocamera esattamente con la stessa modalità che avete su iPhone vedete che su iPhone una volta che avete fissato il punto di fuoco potete essenzialmente muovere la luminosità della vostra ripresa quindi queste essenzialmente le modalità di utilizzo principali per quanto riguarda la fotocamera c'è da dire una cosa importante che il doppio sensore dunque 12 e 8 megapixel è abbinato ad un sensore frontale invece da 8 megapixel peraltro c'è da sottolineare che quello posteriore è stabilizzato sia elettronicamente che la stabilizzazione sia ottica che elettronica quindi diciamo che i video hanno un'ottima resa proprio grazie alla stabilizzazione più che buona non arriva al livello di stabilizzazione che riesce a darvi iPhone ma comunque devo dire che è più che gradevole vi segnalo poi tra l'altro per quanto riguarda la batteria tra le informazioni relative a questo telefono che insomma batteria pretty good 3300 mAh ripeto abbinata a 4 giga di ram e al processore snapdragon 660 con un display che è full hd questa combinazione ci dice che l'autonomia è veramente ottima i giochi super demanding cioè quelli ad esempio con del 3d con diciamo richieste grafiche importanti consumano tra il 22 e il 24% ogni ora un video riprodotto invece in loop con lo schermo al 50% della luminosità vi dà più o meno 13-14% di scaricamento di abbattimento della batteria ogni ora insomma un prodotto secondo me carino prezzo ufficiale 499 euro ma online lo trovate già a 370 380 quindi prezzo molto aggressivo i suoi competitors sono OnePlus 5 e sicuramente Honor 9 diciamo che si mette a metà tra i due è un prodotto interessante secondo me è un grandissimo passo avanti rispetto allo Zenfone 3 dello scorso anno vedremo insomma come verrà accolto dal mercato ma secondo me i presupposti sono comunque più che vuole contents no non piuttosto 探 parents Сk ci competo tutti оля tutti Grazie per la visione!